Entrerà in aula domani, 28 dicembre, l'ultima finanziaria della legislatura e sarà blindata. L'accordo, raggiunto tra maggioranza e opposizione, dovrebbe garantire un via libera veloce senza intoppi, indispensabile per evitare l'esercizio provvisorio. Le eventuali variazioni saranno demandate a chi vincerà le elezioni. Il testo contempla solo 5 articoli per 10 miliardi e 600 milioni di euro con la sanità che impegna oltre 4 miliardi di euro di stanziamenti ai quali si aggiungono le misure per la non autosufficienza. Il fondo unico agli enti locali vale 550 milioni di euro e tra le missioni più importanti gli 892 milioni di euro per trasporti e diritto alla mobilità. Capitoli decisivi anche quelli dedicati allo sviluppo sostenibile, ambiente, agricoltura, formazione e valorizzazione delle attività culturali. Al turismo sono dedicati 72 milioni di euro, poi la diversificazione delle fonti energetiche, l'ordine pubblico e la sicurezza, 1 milione e 700 mila euro per la giustizia. La finanziaria approderà prima in commissione bilancio e poi in aula nel pomeriggio con approvazione stimata. Per le ore successive sarà la base di partenza per la copertura delle spese per la prossima legislatura con possibilità di cambiamenti e quindi variazioni dopo i primi tre mesi di governo.